ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerai foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il farmaco veterinario stimulfos a cosa serve stimulfos a un medicinale veterinario a base del principio attivo tol di infos più complesso vitaminico appartenente alla categoria degli minerali nutritivi disintossicanti e nello specifico altri preparati minerali è commercializzato in italia dall'azienda tecnofarma srl stimulfos può essere prescritto con ricetta sop medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco informazioni commerciali sulla prescrizione titolare tecnofarma srl concessionario tecnofarma srl ricetta sop medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco principio attivo tol di infos più complesso vitaminico gruppo terapeutico minerali nutritivi disintossicanti forma farmaceutica compressa confezioni stimulfos 25 compresse principio attivo una compressa contiene tol di infos sale di sodio mg 44,5 pariacido mg 40 tiamina mononitrato vitamina b1 mg 20 riboflavina vitamina b2 mg2 piridossina cloridrato vitamina b6 mg1 cianocobalamina vitamina b12 amu g8 nicotinamide vitamina pp mg20 calcio pantotenato mg4 indicazioni stati carenziali di vitamine del gruppo b e loro diverse forme cliniche parsi e tetanie astenie convalescenze stress e intenso lavoro muscolare animie posologia per uso orale stress e intenso lavoro muscolare parsi e tetanie a seconda del quadro clinico e a giudizio del medico veterinario somministrare una compressa ogni 4 kg di peso o una compressa ogni 8 kg di peso una volta al giorno per 10 giorni come polivitaminico del gruppo b una compressa ogni 20 kg di peso una volta al giorno per 10 giorni anemia e convalescenze una compressa ogni 8 kg di peso una volta al giorno per 10 giorni la compressa porta un incisione a croce per permettere la divisione a metà o quarti di compressa posizionare la compressa su una superficie piana con le linee di frattura rivolte verso l'alto esercitare con il pollice una pressione al centro della compressa per ottenere la divisione in quattro quarti fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato